la funzione codice fa l'esatto contrario della funzione codice.carat che abbiamo visto nel video precedente e cioè partendo da un carattere specifico ti restituisce il numero associato la inserisco sempre dalla categoria testo funzione codice anche qui seleziono la prima cella poi faccio ctrl alt o command alt se sei su mac freccia verso il basso così seleziono tutta la colonna e poi do invio ecco che excel mi restituisce i numeri associati ai caratteri ti faccio notare una piccola curiosità nella funzione codice.carat in corrispondenza del numero 0 corrisponde l'errore valore attenzione non è che la formula ti sta dando un errore no no ti sta proprio dicendo che in corrispondenza del numero 0 la funzione codice.carat ti restituisce valore come se fosse una cella che contiene il testo cancelletto valore punto esclamativo dall'altra parte però nella funzione codice se gli dico di andarmi a prendere il codice del carattere valore mi aspetto che mi restituisca il numero 0 e invece no mi restituisce un errore la funzione codice del carattere valore attenzione non è che la funzione codice del carattere valore